L'ultima iniziativa è stata quella legata a, diciamo, abbiamo concordato con Max Boccasile, un'iniziativa legata alle maglie del video selfie. Quindi abbiamo messo giù questa iniziativa che si chiama proprio video selfie per solidarietà. Abbiamo praticamente avuto a disposizione 100 maglie, t-shirt classiche con la scritta del video selfie di Max, che con la partecipazione di un'attività commerciale di Bari che si è resa disponibile, un'attività, diciamo, sportiva, e ha messo a disposizione il suo personale per la vendita e tutto quanto. Abbiamo raccolto, le abbiamo vendute tutte e quindi abbiamo raccolto la cifra di 1000 euro da destinare naturalmente oggi all'Associazione Nazionale Tutoriale. Quindi come Aria Solidare nel Bari 1908, questo è il risultato di questa godevole iniziativa.